Il 9 aprile un bambino è stato lasciato nella culla per la vita del Policlinico di Milano. Mercoledì pomeriggio è stata la volta di una bambina nella culla per la vita della Croce Rossa di Bergamo. In mezzo purtroppo il tragico episodio della neonata ritrovata morta in un cassonetto per la raccolta dei vestiti usati in zona Cittastudia, ancora a Milano. La cronaca ha reso evidente l'urgenza sociale delle mamme in difficoltà e della rete di assistenza nei loro confronti. A Vigevano esiste l'unica culla per la vita della provincia di Pavia. Si trova accanto alla chiesa della Madonna degli Angeli dove c'è anche il centro aiuto alla vita. Fermo restando, diritto di una madre a partorire in anonimato in ospedale con tutta l'assistenza sanitaria necessaria, la culla per la vita è comunque un'opportunità che garantisce la cura del neonato. C'è la porta che si apre a compasso, schiacciando quel pulsante si apre, lì c'è una culla e eventualmente la mamma che non ritiene di non poter tenere il bambino può depositare il bambino e poi la culla si richiude. Scatta l'allarme, vengono avvisate 4 o 5 volontari e la Croce Rossa. La Croce Rossa vede che nella culla c'è un bambino, parte immediatamente con l'ambulanza, prende il bambino e lo porta in ospedale che poi ci saranno tutte le pratiche per l'adozione. Il centro aiuto alla vita della Lomellina assiste attualmente un centinaio di famiglie. In media si presenta in sede una nuova futura mamma ogni mese per chiedere assistenza. Le storie sono tante, la maggior parte ha in comune la solitudine di queste donne. Perché tante volte le donne vengono lasciate sole, quando dicono al compagno, perché ormai il marito è un po' difficile che ci sia, quando dicono al compagno che aspettano un bambino, di solito il compagno si dilegua oppure dice se sto insieme a te, se non lo tieni. Non è facile affrontare questo tipo di situazioni, però cerchiamo sempre il positivo. Grazie al progetto Gemma dal centro aiuto alla vita si può avviare un percorso di aiuto economico oltre alla donazione di vestiti, latte, pannolini e altro materiale utile alle neomamme. Sono mamme che possono andare dai 18-19 anni, abbiamo avuto anche delle mamme minorenni, fino anche ai 40 anni. Ognuno ha una situazione diversa, ma sempre una situazione problematica. Quando vengono qui noi cerchiamo di accoglierle, di non giudicarle innanzitutto per la situazione in cui si trovano e l'accoglienza nonostante tutto, se anche qualcuna dice non ce la faccio, se proprio non ce la fate nelle bambine, guarda noi siamo qua, vieni quando vuoi e possiamo parlare, possiamo star bene insieme. Dal centro aiuto alla vita della Lomellina arriva un appello per la ricerca di volontari, in quanto la vicinanza umana alle future mamme in difficoltà richiede un impegno particolare. Qui siamo tutti volontari donne, qualche uomo viene, ma per spostare le cose naturalmente, per parlare con la gente, ci vogliono l'aeroporto e da donna a donna.